Questo paese è tante cose, è la legalità contro il crimine, la giustizia contro la violenza, la dignità contro la paura, la convivenza contro l'odio, la domanda di sicurezza alla quale noi dobbiamo rispondere. Per tutto questo proviamo, e io vi dico proviamo insieme, a essere all'altezza e far vincere in questo paese che è tante cose l'Italia più bella. Grazie. Applausi. 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 Grazie.